amici vediamo come seguire un nodo di arresto il Savoia ok prendete la cima giratela intorno al dormiente tornate su a formare un 8 lo vedete l'otto e ritornate sull'occhiello iniziale eccolo qua questo è il Savoia un nodo di arresto rivediamolo di nuovo prendete una cima la fate passare intorno all'altro capo giriamo sotto entriamo dentro eccola è un 8 semplice questo è il nodo Savoia vediamolo con una cima di diverso colore in questo caso arancione passiamo intorno al dormiente giriamo e rientriamo ok ecco l'otto questo è il Savoia un nodo di arresto vediamolo di nuovo con un'altra cima di diverso diametro eccolo qui giriamo intorno e rientriamo dentro l'occhio eccolo lo vedete la forma a a forma di otto vuol dire che avete seguito il nodo in modo corretto vediamolo un'ultima volta con una cima di diverso colore eccolo qui eseguiamo questo il dormiente questa è la cima che conduciamo noi la portiamo sopra il dormiente fare il giro e rientrare nell'occhio eccolo vedete se l'avete seguito correttamente avrete una forma di otto che poi andando a stringere avrà questo aspetto qui questo è un nodo di arresto amici sono andato avanti a eseguire il Savoia il nodo di arresto su cime di colori diversi il mio video termina qui spero di essere stato interessante ed utile nella schermata finale come al solito vi lascio altri video molto interessanti se vi è piaciuto il video mettete un bel like iscrivetevi al canale condividetelo aiutatemi a crescere e io vi ringrazio per l'attenzione un saluto e un abbraccio di cuore iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale